Decadente e d'avanguardia, in bilico sempre fra dissoluzione e progresso. Tutto qui è legato alla storia e le vicende di mille avanguardie ti vengono incontro. I scrittori, gli artisti, ci sono molti interventi e comunicazioni tra il nuovo e il nuovo. Significa quasi essere fuori dal tempo, fuori dalle regole. Grazie per la visione!